Mi ricordo un viaggio fatto tempo fa. Ciò che vedrete non è per i vostri occhi. Nei villaggi in particolare, la sofferenza si fa sentire più di ogni altro posto. Quando mi punivano, mi facevano sbattere con la forza le nocche delle dita contro il muro. Oppure mi frustavano sulle gambe. Talone volte. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.